Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Cesare Martignan. In A1 in direzione Bologna possibili rallentamenti per lavori con corsie di destra chiuse tra Firenze in Plunette e Firenze Scandici. Chiuso lo svincolo di Firenze in Plunette in uscita provenendo da Roma e in entrata verso Bologna. Sulla panoramica tratta chiusa fino alle 18 di oggi in direzione Bologna tra Aglio e Ronco Bilaccio e in direzione Roma tra Pian del Voglio e Aglio. Tra Calenzano e BV1 varianti in direzione Bologna si registrano traffico intenso e rallentamenti. In FIPD per lavori tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna possibili rallentamenti con tendenza all'aumento in entrambe le direzioni. Strada chiusa a formazione di code a Firenze in via Chiantigiana angolo via Fortini per incidente. Segnalato inoltre incidente in via Gabriele D'Annunzio con ricadute sulla circolazione. Moversi in Toscana un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio!